Sicilia in zona gialla, è un autunno difficile, soprattutto alla riapertura delle scuole. Sì, questa notizia della zona gialla sicuramente ha a volte sorpreso, a volte anche sorprendevamo un po'. Un autunno tutto da rivedere. Ecco che da questo, e da questo anche da attore delle prospettive, il mio studio di psicobrandi e psicologia ha organizzato un convegno, ovviamente prima di questa notizia, più che la prospettiva, sul punto e sulle prospettive di quest'autunno, proprio il primo di settembre. È un convegno di tipo interdisciplinare perché intervengono differenti professionalità, a partire dal medico virologo, il professore Antonio Caci, il professore Antonio Davi, della Simit Sicilia, e che parlano proprio del vaccino, anche di questo tema dell'obbligatorietà che tanto sta facendo parlare. Quindi che tipo di autunno ci attende e la vaccinazione in che modo sta procedendo e come dovrebbe procedere. Poi l'aspetto psicologico curato da me, in quanto psicologo, che parlerà appunto diciamo delle ripercussioni psicologiche della pandemia, come dovremmo gestirla ancora meglio in autunno con la zona gialla che appunto è stata poco istituita. L'aspetto dell'associazionismo, l'associazione AFA, famiglie affidatari, problemi dell'affidamento familiare, e l'anno scolastico sta avviando, che prospettiva appunto, a che punto siamo, con l'isoluto Ascione di Palermo sotto la veste diciamo della dirigente scolastica. Dove esiterà il convegno? Il convegno si terrà l'associazione culturale quarto tempo, si terrà in piazza Sant'Anna numero 3, Palermo. Ovviamente auspicabilmente di quel 25 settembre, se rimaniamo in zona gialla o in zona bianca, laddove i convegni sono aperti col distanziamento, io spero ovviamente di farlo in presenza, tutti speriamo di farlo in presenza, altrimenti cercheremo una via alternativa, sempre per trattare il tema. Se dovessimo dare un consiglio, lei che è una psicologa, su come affrontare questa zona gialla, qual è la migliore soluzione? Beh, questa è una domanda forte, anche perché si mettono tutta una serie di situazioni, Novavax, vaccino, obbligatorietà, sappiamo di cosa si sta parlando. Intanto consapevolezza del fatto che siamo arrivati a un punto in cui il virus non è ancora stato sconfitto, i dati dicono questo, i contagi lo dicono, i ricoveri lo dicono, non sono da doverlo dire. Quindi consapevolezza e prudenza, seguire le norme, anche se posso sembrare eccessive, però per sconfiggerlo probabilmente la strada è ancora un po' lunga, perché altrimenti abbiamo già sconfitto. Quindi prudenza e consapevolezza, secondo me.